buonasera buongiorno buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di lo sapete ragazzi lo zoo di football allora ragazzi io volevo ritornare ai oggi dopo lo schifo di sabato e dopo la distruzione totale di ieri però ragazzi era un po scattato di sonno mi sono appoggiato poi a letto mi avrò fatto un'oretta ho mal di pancia ho avuto mal di pancia oggi dopo pranzo quindi ragazzi non me la sono sentita e vi chiedo scusa non so domani vediamo ma penso più di no che si quindi vediamo ragionamento di oggi io ieri veramente credeti volevo buttare tutta l'area tutto nel cesso ma lo sapete lo si ame lo si oda a sto gioco io alla fine ci gioco c'è tra virgolette una rima è così praticamente sta solo la coppa italia domani domani giovedì 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 no no ma scusa niente ok aggiornamento di oggi allora prima di tutto io l'ho fatto col telefonino le ho prese quindi andiamo qui si avvisa domani per io o grazie per il vostro continuo supporto con questa vis vogliamo informare del fatto che il dipartimento è dedicato alle risposte vostre domande opererà capisci ma vai a fare in cura e vediamo c'è un po di tutto qua ci siamo presi se lo trovo no questo qui no ottieni si l'abbiamo fatto già e chiudi non l'abbiamo già presi allora qua sono altre 500 punti invece andate su io penso 5.000 punti io penso 5.000 punti che sarebbero questi questi qua sì l'ho fatto già l'ho presi andate qui va beh cliccate ci prendete 5.000 appunti fatto allora ritorniamo qui qui la vostra il 500 e stiamo a 67 mila punti ragazzi vabbè allora andiamo a vedere qui una cosa veloce niente eventi perfetto andiamo qui dovrebbe visto ho avvenuto vi faccio vedere che dopo la disfatta di ieri ho iniziato la d4 ragazzi io perché avete ho fatto e poi andiamo a vedere 88 sconfitte di fila o qui abbiamo o almeno ci facciamo ci divertiamo qui e questo inizia poi c'è sempre questo che mi dimentico di farlo vediamo un po questo è contro che questa fatta questa accorda a voi non ci interessa e questo abbiamo fatto questi online non lo possiamo fare che devi avere 18 giocatori delle kit e morti che e se niente e questo abbiamo fatto ok allora vedete ragazzi non ormai non nascondo nulla come gli altri allora l'ultima l'ho vinta ragazzi contro un armeno fuori casa armeno poi ho vinto in casa contro questo di napoli in caraga uno schifo poi fuori casa ho perso questo che è un turco se non erro no un arabo e mi laggava e credo di che fare qui ragazzi fuori casa in casa fuori casa in casa a ecco penso contro un turco vincevano a zero ve lo giuro su mia figlia dopo di che di 4 e questo è un turco dopo di che non riusciva a fare più nulla quindi guardate in casa solo due poi fuori casa ho perso fuori casa ho perso fuori casa ho perso fuori casa ho perso quittata 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 quitta guardate tutte fuori casa ragazzi vuoi dire che non ci credete assurdo no da qua a parte si da qua 1 2 3 4 5 6 7 8 8 partite su 10 fuori casa sarà un caso sarà vero sarà ferguson non lo so ragazzi buh allora io sarà il bayern monaco non lo so buh buh non lo so vabbè prima di tutto devo fare una cosa diamo una svolta diamo una svolta diamo una svolta peccato per quei dieci allora andiamo qui hanno aggiunto ci sono sempre i giocatori siamo con le cacate ok ragazzi a me scadono fra sei giorni sessanta settimila e quattro ne ho ok oggetti e vabbò e hanno messo questi la divisa ragazzi una volta per zoomare ma non si zomma più gli hanno messo questi vediamo se conami ci aiuta vediamo ok poi questo abbiamo fatto missioni le avevamo fatte non c'è niente ho messo gli obiettivi di questi vediamo vediamo questo nessuno ha mostrato mi sa oggi ok abbiamo altri punti sfida allenamento ok ok le faremo però vorrei prima raggiungere un obiettivo con voi no prima di tutto voglio vedere quando scade questo una settimana ok vabbè vabbè dopo di ciò contratto pacchetti niente ticket restaurant niente lista giocature abbiamo 9 mila di gp 16 contratti mirati 16 contratti da tre stelle minchia 16 contratti da tre stelle no andiamo ancora un attimo 15 maggio 16 maggio ne assai ragazzi 3 stelle ne assai ma li ho presi tutti 3 stelle non c'è nessuno 4 stelle minchia questo qua però vabbè mi allora 16 giorni 16 giorni 16 giorni 16 giorni 16 giorni 16 giorni due giorni questa cacata rimane in t3 io ho giocato contro uno che aveva questo ieri incredibile vabbè pumas i puma tigre poi monaco vabbè ai se roma l'arsenal internazionale di milano mila bayernon manchester ha messo sta cagata qua ma va a far curva oddio giaccaria si però giaccaria ma questa è pofana che giaccaria ma che cazzo sta qua giaccaria collante cacciato della juve vabbè in più hanno messo di nuovo lì football championship quella nuova e qui ci sono dei buoni interessanti giocatori dei young bastoni magnan ce l'abbiamo già un po meccano che sempre forma incostante lettera a forma incostante vabbè parte ricoste dovrebbe essere un collo ho riprese meglio la riflessione wow grava chi cazzo e yieldo eh lukaku ma questo potenza tiro doveva avere il valore più alto spinazzol martial dissi dammi e comandi vabbè vabbè chi lo gira cazzo i suoi raga a me non mi interessa nessuno di questo sincero adesso a fare in cui ok allora io continuo a girarmi questo raga voglio fare la prova vediamo se me lo dà ma se non me lo dà a te l'affanculo è la capocchia la capocchia la capocchia raga mi sta dando la morte la mamma te le casce la capocchia la capocchia la pipocchia l'affanculo fuori uno quante cazze che è stato bastardo con la capocchia la capocchia la capocchia la capocchia Vai a fare l'incupore tuo. Michel, attenzione difensiva. 23 anni. Felipe. Mica che dove cazzo è da finire questo? Love to check. Gigo Carlos. La pace d'aria questo. Vabbè. Stacca poche raga. Stacca poche sta dando con l'ami. Lo deve adesso, vero? E dai. E andiamo. No. Oh. Universal. Giocatore universale. Giocatore universale. Via. Poi è qua è già da finire. Guini. Kovacis Mitrovic. Mitrovic. Ah, pure questo abbiamo preso. Vi era. 22 anni. Bah. Blocca. E chi è rimasto? Csa? E chi è lì? Vabbè. 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 La Fangula. Ok. 8 300 la manda moneta 300 non manda moneta 8 300 la manda moneta 8 300 la manda moneta e namo e cazzo la prima volta che lo pesco 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 posizione ok allora questa la differenza 98 con 99 allora no mettiamolo poi è di 100 prendiamo lui differenza con questo 95 quelle meno 3 meno 3 meno 2 meno 7 meno 3 meno 1 più 7 calci da ferro ma è data più uno tira a giro vabbè più un'accelerazione meno 1 meno 1 meno 4 più 5 contro del corpo chi se ne frega 70 96 99 ma vaffanculo contro questo più due quello questo è anche più veloci porca cosa c'è è una merda questo che hanno dato oggi e cosa ha qua di più? niente vabbè lo proviamo poi andiamo no tanto si possono pompare andiamo qui andiamo qui filtro no ordina data di ingaggio ordine chissà scadendo il contratto a questo tante le tracce peccato la questione di miglior che volevo io tra dieci o riscaldere a lui lo stesso a quattro giorni vabbè questa è la pista scadendo quattro giorni allora lui vediamo se c'era qualcuno da dare ita progresso un filtro posizione tds e dc pom pom scalvini ma vai a che nessuno posso dare a vendete conto boh vabbè non ce l'abbiamo come arriva ad accento questo io non ho capito questo fatto minchia velocità 89 raga cazzo me ne frega del dribbling siamo nato qua va bene così a me interessa 94 95 ok e poi resti possiamo andare a buttare nel cesso fra un po una partita ve la porta andiamo giocando col contratto vediamo la differenza da questo e questo allio difensivo più 3 velocità più 5 più 6 più 8 più 2 ha giudicato questo fa 97 qua ok e anche 97 qua poi immaginate un po ok ludic e nesta mettiamo sulla destra ok sì via raga io questo porti anche fatti dts dai c'ho mal di testa raga mamma mia poi ci facciamo la squadra per il futuro poi io voglio ritornare al subito in divisione 3 raga mi girano i coglioni vediamo lo schifo oggi come a 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 mancare fuori casa raga inutile 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 beh la proviamo subito la proviamo subito purtroppo questo è un po' di merda quel colore non ho visto le cose qua a corta lui ma lo esiste? allora davidse rudiger va beh Penso di aver fatti vedere tutte le novità Penso eh Vediamo se la forza della maglietta sia con noi Come no? Ma come no? Emo chi cazzo batte no? E c'è già un calcio di punizione e la posizione è pericolosa Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni E il collo è stato legato da un'incredibile parata Ha colpito bene la palla ma il portiere ha risposto veramente alla grande A sinistra con il passaggio Super Dino, Dino Fess 77 abbiamo quei tanti o meno Ah ho cambiato l'assistenza del cursore Della mi ricordo Dell'assistito Questo vuole fare l'efficienza Che che facciamo fare? Posso giocare? Konami Posso iniziare a giocare o no? Ma boh Quarta divisione Ioneo Guarda come sono già rientrati a lui raga Incredibile Due mancini sta giocando Questo vuole dimostrare che non scioppa Bla 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 Con Murillo sto hasta giocando E' che va a prendersi palletti? Come mai? Muerte da mamma O contro i turchi, o contro i napoletani Ma voi non fate un cazzo nella vita veramente No Vabbè dai, vabbè Cerca un'azione veloce Hanno gestito davvero male il contropiede Non sono stati convinti nella fase di transizione Il risultato è stata una palla persa La gioca sulla destra Pallone interessante in verticale Ma io gliel'ho data Gliela stavo dando a Bappé Ma c'è davvero Ma dove vai? Ma non si è fermato Madonna mia Che schifo Dio santo Ma guarda quello Era David Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Deve palla con un bel gesto tecnico Prova a tagliare sul secondo palo Ciò a meno Opportunità di ripartire Palla riconquistata immediatamente La mette in avanti E questo è un passaggio quanto meno discutibile Allarga il gioco con pallone a sinistra Pallone nello spazio Ma tuonarci veloce sarà Vabbè ma lo sto capito E basta Tutta da mamma tu Il portiere ha risposto presente Quando c'era bisogno di lui Intervento pregevole Non ti fa tirare incredibile sto gioco Non ci credo Fuori casa Non so che fa Non so chi dà la falla Oh Ah io ho fatto il fallo Ma sei serio? No vabbè Oh 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 e cerca la profondità, c'è l'opportunità per il controviede. Stanno abbassando la linea di pensiva Fabio. Credo abbia deciso di confinare. Non è il follow qua. Si in Luca lo penso anch'io, vogliono rimanere compatti dietro e poi scrittore, cerca il tuo parato nuovo, ti lega la gioia del col, che parata! Direi che il portiere è stato impeccabile, è difficile fare meglio di così. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Soltanto uno dall'altra parte. Ripartono l'attacco direttamente dalla Fabio. Eh raga, eh giudicate voi sto calcio d'angolo, che cazzo vedevo dire io? Boh. No. Dove andare profonda nello spazio, ma ma peggio nello scontro di forza. Ecco il cross. Gran colpo di testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Ottimo senso della posizione, ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. Lorenzo Pellegrini. Walker. Davies. L'accumento di questa accetta è di 162.306 spettacoli. Va alla ricerca di un compagno davanti. Boh. La scelta di tempo va a sfumare l'azione personal. Pallone lungo in verticale. Oh. Vede lo scatto e c'è la possibilità. Prova a sfumare di forza, ma senza esito. Alla retta. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto notevole. Sceglie di andare per via verticale. Come non è rigore? Ma come non è rigore? Ma... olmakistica di ormai. Grazie. Cambio di giocatori. Terzo tiro dalla ballerina per fuori. Avversari bloccati a uno. Opta per il tocco corto. Ecco l'Ambad. Falchios! La muerte da Muhammad. Non perdono tempo, spingono subito verso la meta K avversario. Eh dai, però no, raga, troppo ritardo. C'ho, raga, io c'ho troppi ritardi. Io c'ho troppe ritardi, raga, ma come cazzo si fa? C'ho troppe ritardi. Troppe ritardi. Ma dove cazzo la dai la palla? Ma guarda che mazzata di là, guardate. Cioè avete visto o no? Ma che fa? Mamma mia che pallaccia rischiosa. Cerca il dribbling in velocità. Supera il diretto avversario. E avere un magallino. Ma perché? Ma chi gli ha detto di fare col super cazzo in culo, là? E dai, ma fischia un cazzo di fallo! Nooo! Di nuovo. Scatto verso il pallone. Messi. Lo sposta di peso e gliela porta via. Ma questa volta va bene la tua parte. Questa passa la tua parte! Echè! Paola! Grazie. La conclusione è uscita, il mercato almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Il numero 9, il numero 6, il numero 18, attenzione e un cambio. Ma perché? Vi chiedo perché io? Oh! E' te! Vabbè raga, le ha prese tutte raga, le ha prese tutte raga, le ha prese tutte, io non ci credo, non ci credo, ma non ci credo. Il gioco ha renderato la banderina per il loro quarto corner, due per la compagina avversaria. Voleva fare sicuramente meno e non un gran grosso. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ma... Oh! Ma dove sta a casa il mio? Ma l'ho aperto. Cross e mezzo. Libera al momento giusto. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o si assisteremo al colpo di scena. Madò... Oh! 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 Completamente fuori misura Del Piero Del Piero Supera diretto avversario Del Piero dentro il pallone A me me ne voglio spaccare tutto A me me ne voglio spaccare tutto Mi sono rotti i coglioni 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 Madonna mia che schifo Ve ne dovete andare davanti i coglioni Voi e i turchi Mi fai giocare in casa Ciao